In questo video vi faremo vedere un appartamento di 90 metri quadrati posto al primo piano di una piccola palazzina di tre piani in totale. L'appartamento è da ristrutturare completamente, è composto da un grande ingresso alla Genovese, molto luminoso, due camere da letto matrimoniali, una terza camera un pochino più piccola, cucina abitabile e bagnetto. Il riscaldamento è autonomo, non ci sono spese di amministrazione e la proprietà comprende una grande cantina al piano seminterrato dell'edificio. Siamo a Pedemonte, in comune di Serraricò, al centro del paese dove ci sono servizi e negozi di ogni genere. È in vendita anche l'appartamento al terzo piano dello stesso e in vendita anche l'appartamento al terzo piano. e in vendita anche l'appartamento al terzo piano.